Buibrai, what's happened? Che cosa è successo ieri? Stavamo seduti in casa quando ad un tratto è arrivata la polizia ed ha chiuso i locali. Il posto in cui siamo costretti a vivere ora non va bene. Viviamo come animali. Chiediamo aiuto. Vogliamo che i giornalisti pubblichino questo messaggio per noi. Abuibrai ha 18 anni, arriva dalla Nigeria. Dopo qualche mese trascorso a Lampedusa, ora si ritrova nel gruppo dei 20 migranti alloggiati provvisoriamente nei locali di un agriturismo adiacente ai locali del Batavia, con Trada Cerreto ad Ariano, divenuto centro di accoglienza e che li ha ospitati fino a ieri. Come tutti ha una storia da raccontare, una vita che ha deciso di buttarsi alle spalle per quello che molti definiscono l'Italian Dream, il sogno italiano, che tanto sogno però non si è rivelato. Delusione e disperazione nei volti di questi giovanissimi. È un'Italia che vuole aiutare ma non riesce a farlo. Mancano centri, attrezzature, strutture ed il flusso di migranti che sbarca quotidianamente sulle nostre coste è troppo ingente. L'Europa snobba lo stivale in materia di immigrazione e di questo sono a conoscenza gli stessi profughi. Vuoi restare in Italia o andare in altri paesi europei? No, voglio restare in Italia, lasciare Ariano, ma qualsiasi altro posto lontano da dove vengo mi va bene. Disorientati, ignari degli iter necessari per ottenere un permesso di soggiorno, hanno tutti un'età compresa tra i 17 e i 22 anni. Non riescono a comunicare tutti tra di loro, alcuni parlano inglese, altri francese. Daniel di anni ne ha 17 ed è disperato perché nei locali del Battaglia c'è rimasto il suo cellulare, unico sfogo in paese straniero, ponte tra passato e futuro. Da quando hanno chiuso le porte del centro di accoglienza passiamo quasi tutto il nostro tempo in strada. Ieri sera faceva freddo, siamo stati in strada fino a quando la polizia non ci ha detto dove dovevamo andare. Abbiamo dormito in 26, in una stanza.